Eh, davvero un bel guaio. Spero che gli orsi stiano bene, altrimenti sarò disoccupato. Uh, eccoli. Meno male. E così papà non pagherà le mie bollette. Fratelli, state tutti bene? Sì, credo di sì. Oh, il telefono! Orso bianco indistruttibile, ma non il camper. Il camper di Squatter la Lontra. È distrutto. Oh, neanche tanto. Mmm, come non detto. Il camper distrutto. Squatter la Lontra si arrabbierà? Non l'ho mai visto arrabbiato finora. Non si può sapere come reagirà. Cosa avete fatto al mio camper? Oh, per voi si mette male, ragazzi. Scusa, in che senso per voi? Beh, non è colpa mia se il camper è distrutto. Scherzi, Gritz, di sicuro non è colpa mia. È tutta colpa vostra. Orso bianco innocente, fratelli maggiori colpevoli di ogni delitto. No, no, l'hai distrutto tu, il camper. No, Gritz, lo hai distrutto tu. No, che faccia? No, che faccia? Ehi, amigos, ecco di qua. Mi ho cercato dappertutto. Allora, avete fatto un giro col mio bel camper? Io non c'entro niente. No, è una colpa mia, lo giuro. Sono stati loro. Non darvi ascolto, eh? Io sono un carino innocente. Orso bianco a solido alibi. Prima che ti arrabbi, ti raccontiamo come è andata. Così saprai bene tutta la storia. Allora, eravamo nel camper e... Per caso hai un tre? Pischiatelo da solo, bambaccio! Tre di cuori, poppante! È solo fortuna, nient'altro. Squatter, il tuo nuovo camper è bello e ben fornito. Davvero possiamo restare qui tutto il tempo che vogliamo? Ma certo, siete i miei migliori amici. E soprattutto Gris. Lui ha molta classe. Quanta ne hai tu, bello? A quel punto Squatter è uscito per... Per andare a... Ah, mi pare dovesse andare a comprare dei francobolli. Esco, forse vado a comprare dei francobolli. È stato allora che ho avvertito il più buon odore di tutti gli odori. Pizza! Pizza squisita! Ehi, salve ragazzi! Cosa? C'era soltanto una fetta di pizza per tutti e tre. Ho tentato di risolvere la cosa in modo diplomatico. La soluzione è evidente. Tagliate la fetta in tre mini porzioni affinché tutti e tre possiate gustare l'ultima fetta di pizza. Potevano semplicemente dividermi. E così loro hanno fatto partire il camp. Per fortuna a salvare la situazione c'ero io. La cintura innanzitutto. Prendiamo il controllo di questo bestione. Albero! Parcheggiamo. Fratelli, tirate sul freno a mano. Come così? Capito! Io ce l'ho messa tutta, ma il camper ha urtato grazie a... Tu ora sai chi? Non è affatto vero! Non è andata così! Orso bianco dice. Grizz ha battuto la testa. Ragazzi! Se me ne date la possibilità, io potrei chiarire ogni cosa.